il block house è quella casa di pietra ebbene sì sulla quale eddie merckx scrisse le proprie primissime pagine rilegate in platino nella propria storia al giro italia nel 2018 vinse nairino quintana e da quel momento che non passiamo sull'imponente colle abruzzese verrà affrontato due volte in quella che è una tappa veramente molto dura per dislivello questa è una delle prime tre tappe del giro ed è solo alla nona quindi è molto facile pensare che deciderà tantissimo la forma di questo giro al punto di vista strategico dopo la tappa di potenza il momento di un altro tappone appenninico in piena regola che stavolta presenta le salite più impegnative ovvero la doppia scesa al block house nel finale di corsa la tappa si anima fin da subito proponendo a distanza di molti anni la storica sequenza macerone rionero sannitico roccaraso sul vecchio percorso della statale 17 andando nel dettaglio il valico del macerone sono tre chilometri e mezzo al 5,4 per cento il rionero sannitico la più impegnativa delle tre sono 9 chilometri al 6,8 per cento di media ma con molti tratti in doppia cifra mentre a roccaraso si arriva con 7 chilometri al 6,4 per cento a questo punto inizia un lungo tratto di avvicinamento al gran finale fatto comunque di discese insidiose e salite più o meno marcate emerge tra le altre quella che porta guardia grele senza passare dal muro di circa 4 chilometri al 5 per cento il bello arriva dopo fara figliorum petri dove si inizia a salire verso la magliella prima si superano i circa 8 chilometri e mezzo al 4,5 per cento della salita della forca quindi con una breve discesa si arriva pretoro dove inizia la salita passo lanciano di 10,3 chilometri al 7,6 per cento proprio all'imbocco attraversando il centro storico di pretoro si trovano le pendenze più cattive con la massima segnalata al 14 per cento lo scolinamento avviene circa 43 chilometri dal traguardo non pochissimi motivo per cui visto anche che siamo soltanto alla nona tappa la forza dovrebbe decidersi sulla salita finale già nel 2017 abbiamo visto come il versante di rocca morisce possa scavare di stacchi importanti anche come un inquerto ecco che al termine di una tappa così impegnativa il block house diventa uno dei momenti chiave dell'intero giro d'italia tanto per la durezza della salita quanto per la durezza di ciò che l'ha preceduta si sale complessivamente per 26 chilometri prima si affronta una decina di chilometri al 4,5 per cento quindi una breve discesa porta all'inizio formale della salita di 13,6 chilometri all'8,4 per cento per comprenderne ulteriormente la durezza basta evidenziare il tratto centrale di quasi 10 chilometri al 9,4 per cento di pendenza media al traguardo si saranno accumulati circa 4.700 metri di dislivello